oggi è una giornata tipo irlandese c'è lo cupo piovigina vi faccio vedere i lucci che si sono alzati in questo lago adesso che non c'è più nessuno sono rimaste solo qualche persona di là vi faccio vedere che sono circondato dai lucci se riesca ad avvicinarmi ecco i primi due stanno qua questi sono lucci dei tre chili tre chili e mezzo forse quattro chili cioè un maschio una femmina eccoli qua sotto due bei paperoni sono in condizioni perfette c'è un altro già dieci metri più avanti due eccoli e con un altro che si avvicina la sponda qua più avanti ce ne sono due uno qua vicino al cemento e uno più avanti eccolo uno un altro eccolo qua adesso andiamo a trovare i due capoccioni che stanno giù all'angolo tanto questi sono lucci che sono territoriali stanno quasi sempre allo stesso posto quindi ne abbiamo visti quattro in dieci metri adesso vediamo se c'è quello c'è una femmina sotto a sto ciuffo d'erba di solito mi sembra che adesso non c'è 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 eccola qua è andata via eccola qua questo è un altro piccolino che sta un po più avanti non è la femmina che dico io eccolo questo si è affondato però non si vede più vediamo se ne troviamo un altro eccolo qua forse voi con riflesso non li vedete bene tutti quanti perché ne so veramente tanti a parte qualcuno che è morto dopo l'immissione sono rimasti quasi tutti e sono in condizioni perfette eccolo qua c'è un altro piccolino all'angolo piccolino piccolino eccolo là eccolo in alto più avanti e questo è l'unico laghetto sportivo per far pescare i luci eccone uno uno più avanti lassù e un altro sta ancora più avanti e rispetto ai luci che vengono come buste questi sono pure abbastanza vivaci quando vengono agganciati ecco c'è stata una femmina sotto sponda adesso qui ce ne abbiamo tre nel raggio dei 10 metri c'è una femmina questa è uno e ce ne sono due sotto sponda ecco guarda una femmina che sicuramente non mi vede e c'è un altro maschietto più piccolo invece ma ha visto ecco una femmina davanti c'è un maschio piccolo la carta i due luci vi ricordo che questo è il parco rio di durania questo l'abbiamo già visto ecco i due luci di prima adesso vediamo qui più avanti se ne vediamo qualcun altro questi sono luci che si sono quasi raddoppiati in un anno di mi dopo l'immissione adesso sicuramente da questa parte non ne troviamo più perché c'è qualche pescatore sono disturbati queste in queste giornali in queste giornate si alzano tutti quando c'è il sole è un po più difficile anche le catture le catture con questo tempo specialmente al tramonto sono numerosissime qui non ci sono più sono tutti lontani dai pescatori la sponda di là è piena ciao a tutti da rigo del parco rio di durania